Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, il Napoli acquista lo svincolato Irvoje Milic, quindi a meno di clamorosi scenari Milic vestirà la maglia azzurra. Già oggi ha cominciato le sue visite mediche e che terminerà domani, ma sappiamo che quando si tratta di una nostra operazione di mercato, fin quando non è ufficiale, non bisogna mai dare nulla per certo, però sembra che quindi Milic dovrebbe approdare in azzurro nelle prossime ore. L'ufficialità dovrebbe arrivare dopo la partita di giovedì sera contro il Lipsia, quindi tra venerdì e sabato. Sono un paio di settimane che per quanto riguarda noi si fanno nomi di diversi terzini svincolati. Milic appunto è un terzino sinistro e quindi Giuntoli e Sarri hanno deciso di puntare su Milic proprio perché tra i vari terzini svincolati era quello che era fermo da meno tempo perché ricordiamo che Milic ha giocato la scorsa stagione in Italia nella Fiorentina collezionando 19 presenze, mentre questa stagione fino a due settimane fa faceva parte dell'Olimpiakos e poi è andato via dall'Olimpiakos quindi per quanto riguarda gli allenamenti è fermo soltanto da un paio di settimane anche se con l'Olimpiakos in questa stagione ha collezionato soltanto due presenze. Inizialmente ovviamente verrà usato soltanto negli allenamenti, si dice che l'acquisto di questo svincolato sarà utile soprattutto per gli allenamenti perché bisogna tenere un terzino in più nelle partitelle, negli schemi in allenamento, Milic ovviamente conoscendo anche Sarri non lo vedremo costantemente in campo a meno che non si integri al meglio già da subito nei nostri schemi ma è molto difficile sappiamo che per vederlo in campo dovranno essere soltanto indisponibili sia Mario Rui che Maggio poi ovviamente dipende anche da lui come abbiamo detto prima da come si integrerà negli schemi se dimostrerà una buona condizione fisica nonostante non si alleni da un paio di settimane è comunque un calciatore che se prende una buona condizione fisica e riesce ad entrare negli schemi verso diciamo aprile maggio anche metà marzo potrà fare qualche partita e potrà esserci utile in caso anche di assenza di Mario Rui perché poi ricordiamo che per tutta questa stagione da quando si è infortunato Kulam se manca Mario Rui gioca Isai come adattato a sinistra e poi gioca Maggio sulla destra comunque Milic è un calciatore che ha delle buone caratteristiche in fase di spinta non ha una grandissima tecnica però come detto ha belle caratteristiche in fase offensiva mentre in fase difensiva potrebbe concedere un po' troppi spazi ma sappiamo che Sarri è molto bravo nel correggere questi difetti anche Kulam che aveva dei problemi in fase difensiva poi alla fine soprattutto in questa stagione ha dimostrato di aver superato questi problemi e quindi diciamo ha delle caratteristiche simili a quelle di Kulam ma ovviamente è nettamente inferiore sia per quanto riguarda la tecnica sia per quanto riguarda la pericolosità che crea lì davanti Milic ha anche sei presenze nella nazionale croata quindi comunque si tratta di una buona riserva come detto bisognerà vedere quali sono le sue condizioni fisiche ovviamente se quando verranno fatte le visite mediche i medici del Napoli vedranno che le sue condizioni fisiche non sono idonee non arriverà proprio invece se mostra di stare abbastanza bene atleticamente comincerà a fare gli allenamenti e poi dipende da lui se verrà schierato in campo o meno ovviamente firmerà un contratto di sei mesi fino al 30 giugno e poi se il suo contratto verrà rinnovato dipenderà anche dalle sue prestazioni ma non credo perché ovviamente quando rientrerà Kulam dall'infortunio sulla sinistra come terzini lì siamo già coperti con Kulam e Mario Rui quindi ragazzi detto questo fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate dell'arrivo di Milic detto questo io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli Grazie a tutti